La corsa al sostituto di Massimo Paci passa inevitabilmente dai destini societari del Teramo, dagli equilibri che potrebbero rimanere tali oppure subire modifiche profonde ad ore. Per il momento non è dato sapere, ma è probabile che già la prossima settimana il presidente Biancorosso Iachini dovrebbe parlare ufficialmente e chiarire la sua posizione dopo gli incontri con Kim Dae-jung, incontri che risalgono ad inizio settimana, e contatti neppure troppo informali con un gruppo romano che ha chiesto e ottenuto informazioni sulla situazione di bilancio del diavolo. Non è un mistero, infatti, che ci sia stato uno scambio di mail tra la società e i referenti della eventuale cordata capitolina per quella che può essere definita una pre-due diligence, una sorta di conoscenza sommaria dei conti del diavolo che causa pandemia, ma non solo, presentano più di qualche criticità. Ecco spiegato il motivo per il quale ancora tutto tace in Casa Biancorossa, perché finora non si parli di mercato in entrata e neppure di eventuali rinnovi. Impossibile, infatti, farlo senza la certezza di quello che sarà il budget complessivo da poter mettere sul piatto per la stagione 2021-2022, che, come era ampiamente nelle previsioni, non porterà a nessuna riforma dei campionati, ma soltanto, forse, a quella dei gironi. E se non ci sono i presupposti per disegnare la Lega Pro del futuro, i presidenti si mettano l'animo in pace che, anche nel 2022-2023, ci sarà da continuare a disputare campionati pressa poco simili, con entrate contenute ed esborsi molto superiori. Non sempre colpa della categoria, però, anche di scelte di mercato errate, con le quali poi si è costretti a fare i conti per diverso tempo. E il teramo è l'esempio lampante. Mercato 19-20 fara onico, il salto di categoria non c'è, anzi, il diavolo non ci va nemmeno vicino. L'annata successiva, questa appena conclusa, con il ridimensionamento dei costi, riuscito solo in piccolissima parte, ed ecco che la sforbiciata l'anno successivo deve essere maggiore. E inoltre serve iniezione immediata di liquidità per far fronte alle spese che verranno. Dunque, per adesso, a partire da chi è in scadenza, sono tutti potenzialmente partenti, anche chi ha il contratto per il prossimo o le prossime stagioni. Ed ecco perché il sostituto di pace ad oggi è solo una lista di nomi e idee buttate giù, senza nemmeno troppa convinzione. Così come il rinnovo del direttore sportivo Sandro Federico è ancora appeso al filo della continuità progettuale e arrivare a parlare di mercato giocatori è ancora molto troppo presto.